Il mondo ha dato ragione a chi negli anni secondo me ha saputo esplorare più cose e la differenza io credo che la faccia la credibilità che tu vai a costruire comunque in ognuno di questi mondi. Sono d'accordo sono d'accordo anche perché se tu ci pensi chi ha è come essere social per essere social devi essere cross social devi essere cross mediale devi essere su tutte le piattaforme e l'essere poliedrici il sapersi muovere in più direzioni è abbastanza essenziale soprattutto ai giorni di oggi.